Sì, vediamo se ora sto meglio. Sì, qua, con questa gege. Che meno dovesse affrontare l'arrabbiata con questa cintura. Chi l'ha arrabbiata? Una curva di cosa? Cosa ti dico, di muciello? Pensava fosse una delle tue donne? No, siamo ancora nelle mirotte, non arrabbiate. Un vecchio male bambino. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione